non spingere papà cammina oi è muo che arriviamo sopra dal rettore non parlare l'italiano italiano si dice papà italiano si quella roba là muoviti cammina pronto avanti avanti entrate andiamo buongiorno che piacere averla conoscere piacere è tutto vostro tutto vostro sedetevi sedetevi questa è curricula oh che bello che bello è di carta è di carta è curriculum 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 è latino questo qua mi parla tre lingue tre lingue quasi quattro comunque tu devi capire che il tuo destino poi finisce all'estero con una laurea guarda il fiorfione di cultura che abbiamo in questo paese meraviglioso guarda guarda questi erano due scienziati quasi nucleari adesso vedi sono due ignoranti che cantano e sono diventati famosi all adesso andate a visitare l'università vedi un po' tutti i corsi l'importante è che non devi essere studiato vergognato ehi come ti faccio andare a vedere la scuola e fatemi sapere non gli permettono di toccare un libro che mi fa schifo poi ho detto a mamma che volevo laurearmi lei mi ha risposto con un conato mio padre è disperato mi ha gridato disgraziato posotti sei messo in testa non devi essere studiato dopo che ha bruciato i libri e comprato la pelle vuole faccia i soldi con i videogame come fa dj ha detto prendi esempio dati a soldi e figa pazzie mi ha scritto a danza all'accademia di Gianluca Bacchi studiavo troppo i compagni mi bullizzavano così la prof mi ha detto di studiare meno io l'ho presa in parole adesso a scuola sono un diavolo infatti adesso invece di studiare meno pista l'obiettivo è stare sempre in pista io non mi informo voglio diventare opinionista cervelli in fuga all'estero chiaro vi siete visti è ovvio che non siete belli per fare i tronisti mio nonno era il più sveglio mi ha imparato la lezione ora lo tengo in frigo per scroccare la pensione non faccio niente onestamente come craxi papà andiamo al comizio portami a vedere razzi ehi no sono fatto per far mai successo ma non sono studiato e quindi lo farò lo stesso ehi no sono fatto per far mai successo ma non sono studiato e quindi lo farò lo stesso fondamentalmente non so fare niente ma chi se ne frega mio cugino è nell'ambiente scrivo la qualunque ignorantemente fa di questo passo posso fare presidente non sono studiato fred non sono studiato non sono studiato fred non sono studiato non sono studiato fred non sono studiato fred non sono studiato fred non sono studiato titolo di studio metti pure battesimo faccio un disco d'oro fra te fa molto più credito ma quale strana casta ho spento il ghetto blasta questa guerra basta seppellisco l'hashtag tu vuoi una borsa di studio io ho una porca in studio bro quindi portami in studio portami subito punto e b punto chef rubio non voglio farlo stronzo ed apparirvi babbo ma qua è così che va frate io me la dabo non sto sui libri fra mai io sto tra i primi tu guarda i paggellini io vado al top infine voglio magari a capo dello stato il distorso a fine anno scritto da luca giurato anche una monellina che sia un po' porno e bellina non voglio una gallina che fa co 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 deina mangiare nudo con lei nudo il con lei poi google e play mi vuole snello in tiro il clou o in tv come bello figo gu volevi storie crude con idee mature io voglio view sicure mi porto uno youtuber fondamentalmente non so fare niente ma chi se ne frega mio cugino è nell'ambiente scrivo la qualunque ignorantemente fa di questo passo posso fare presidente non voglio stare male come un labreato che poi mi dicono è troppo qualificato non sono studiato fred non sono studiato fred non sono studiato non sono studiato fred non sono studiato non sono studiato non sono studiato